e questa è la pesta della griglia rossa che sta vicina alla rossi con la vita del cuore ragazzi una missione! il cuore è nato a proprio futuro! il finale è successo! la cera cera cera! vado! ci siamo ora! siamo pronti prontissimi per iniziare tutti i assisti in un bordo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, siamo partiti! sarà uno, sei, il sacco è unico! il tuo bimbo è unico! avanti tutti ragazzi, avanti tutti! mangiare la strada! e questa è la magia del momento dello start! bravo, bravo, bravo! il nuovo punto di gioco! stato di gioco! piano! sette! soprattutto avanti si avanti appassionati del ciclismo! bravo! yeah!